Eccoci qua coccodrilli, ora andremo a fare un bel giretto con la coccodrillo car Ma quando adesso? Tocca ad andare via! No no no, va a fare la pipì, va a fare la pipì, vai 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 Ecco la nonna che mette il rossetto, vai 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 brava Mette il rossetto per bene, va via, fa la bocca alla gallina, il culo di gallina vai Ma che rossettino che è adesso, via via andiamo 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 Eccoci qua tutti e tre, pronti? Via! Pronti? Più forte? Via! Più forte? Vaffanculo! Lo sapevo, lo sapevo Ma guarda che mi ha combinato! Dai che zitto zitto ti piace! Ma guarda che cazzo mi ha fatto! Ti piace zitto zitto! Ma fa la mola! No, una mola coccodrillo car Così l'accendo? Fermate! Ha bruciato tutte le candelette così! Dio c***o! Ma le candelette Ci sono 70 euro per comodargli! Tutti in partenza! Eccoli! Sei contento o no? Sì! Eeeh! Wow 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 wow! Non è così eh! Che è la brucia! Che manca l'acqua non c'è! Oh no, ti ricordi qua che c'è? Eh, qui c'è la scuola dove c'hai tu! Eh! Eh! Che ti ci portavo e tu invece di andare a scuola andavo alla rocca! Non è vero! Ah non è vero? No! Solo quando erano belle giornate! Ah! Ma che fai? Mi pifai il culo? Perché? Ma come perché? Eh ho capito! E quando erano belle giornate ci volevi tutto l'anno alla rocca! La scuola era qui! Mica non erano dalla rocca! Adesso andremo anche alla rocca! Bello! Perché quello è stato guardato! Ebbè! E bambolo quando ci dà la scuola di telefono! Che fa sempre capisciotti! Siamo arrivati dove? Alla rocca! Dove? Alla rocca! Dove? Ma vaffanculo va! Eccoci qua alla rocca! Fate un bel sorriso! Vai! Più sorridenti! Vai! Ah che bello! Guardate quanto siete belli! Guardate quanto siete belli! Ehi come ne ho! Guarda quanto sono belli! Eccoli! Guarda quanto sono belli! Quanto sono belli! Guarda quanto sono belli! Guarda quanto sono belli! Vai! Io vò! Dov'è? 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 Io vò! E che mi lasci qui imbecile! Dai! Testa di cazzo! Nooo! Guarda! Quel panorama di lì sta di lì! Guarda che stronzo! Guarda quel panorama! Guarda quel panorama! No! Ma che è quella cosa lì? Era il ristorante! Tu c'hai fatto il pranzo dei matrimoni! Quanti anni fa donna Maria? Sessantadue! Sessantadue anni fa! E come eri sessantadue anni fa? E come un coglione! Ma sempre queste parole dici però! E come io le dì! E vabbè! E io le dì! Io le dì! Ma me le dì come ero! Ero carino! Ero giovane! E c'era qua! Non ammazzò le monna che per l'amor di Dio! No! Non l'ammazzò! Nonna! Adesso scendiamo su questo bel posto! Sì sì! Tu scendi? Io no! Ma perché ne scendo? Perché io non ci penso che senti freddo! Ma non è freddo! E beh! E allora faccio tu a senti callo! Ma io non è freddo! Sarà callo faccio tu! Io non pensare ai coglioni! Ah! Adesso! Sei messo da costo! Ci veniamo io scendo! Come cosa fatti i capelli? Scendi! Ah! Ne hai capito che ne scendi! Fermate Federico! Che mi fai un cazzo di... Perché dico quattro bestemmi! Ah! 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 Dove siamo nonna? Eh? Siamo alla Basilica di San Francesco! Che gli vuoi dire a San Francesco? Che ti facesse trovare una brava e bella ragazza che ora... Che ha l'età proprio di tirare avanti la famiglia! Eh sì! Eh! Ci aiutasse San Francesco! Chiamelo! Chiamelo! San Francesco aiuto! Chiamelo! 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 San Francesco mio! Ti voglio bene! Ti amo! Com'è nonna Maria? Mi pareva uno! Te lì invece è nassato! È nassato col cavallo! È nassato col cavallo! Testa di cazzo è verde! Oddio ma l'ha addormentato no? Ma che ti addormenti dal demofro? È vero! E vado a girare di qua! Ma qui vado a girare di qua! E vado a girare di là! Ma no! Ma tu hai sempre ragione! Ma come c'ho ragione! Ma non è vero! Ma se tu le strade le conosci! Ma non è vero! Che cazzo ti scordi! Dica perché la brufa! E vado a girare! Ah beh! E come no! Allora gira a sinistra! Vado a destra! Ma sta giusto! Ma come no! Oh no! Tu guarda bene il treno quando passa eh! No! Io guardo una bella surca! Maaa! Sempre quelli guarda! Adesso rimetto la macchina! Si! Come no! Con vento manovre! Con il cazzo che c'entra così! Con che? Ma è stato più accortato e ti vado a buttare! Con che c'entro? Con il cazzo! Con che? Ma vaffanculo! A destra! Dove? A destra! A destra! A destra! A destra! Dove? Do io la da! A destra! Dove? A destra! Dove? A destra! No! Vado all'altra parte! Dove? Do io la da! Ma la giaccia! Fai tu! Come ora fa? Così? Si! Dai! A destra! Troppo nome così! Dai di là! Di là dove? Ma... No! L'ho rimessa bene? Eh! Qui ci si mette! C'è uno stronzo! Che non d'eretta male! Siete stati bene oggi? Molto! Bel giro! Bello Federico! Grazie! Grazie! Datevi un bacetto! Uno! Grazie di esistere! Fa sentire sottopalla! Fa sentire sottopalla! Fa sentire sottopalla! Fa sentire! Fa sentire! Fa sentire! Continuate a iscrivervi al nostro canale per tanti altri video come questi, vero o no?